a via tutti legionari sono alessio pcm vi do il benvenuto il bentornato sul mio canale e oggi continueremo la nostra campagna con la scandinavia su victoria 2 ferro dal ghiaccio ragazzi allora direi che possiamo partire subito naturalmente vi ringrazio per i commenti che avete lasciato nello scorso video e a cui ho risposto naturalmente e allora vediamo cosa possiamo fare cosa abbiamo nelle priorità abbiamo ancora l'impero ottomana quindi facciamo un ulteriore increase relation tra l'altro ragazzi una cosa che non vi ho detto o forse si ve l'ho già detto che ogni tanto registro come questa volta registro più video di seguito infatti ho registrato sto registrando questo dopo aver appena finito di registrare quello prima però sapete che comunque rispondo ai vostri commenti e allora vediamo un po' nell'oldenburg ce la potremmo fare però no voglio puntare tutto sull'impero ottomana al momento ok miglioriamo però le relazioni anche con l'olanda se non vi dispiace dov'è polanda ok facciamo partire mettiamo la velocità 3 come sono i capitalisti o in una regione sono già quasi al 25 per cente questa è un'ottima cosa gli introiti sono più che decenti devo dire sarei quasi tentato di attaccare i ragazzoli qua però no non importa non non li attacchiamo subito piuttosto dov'è che loro stanno occupando questo qua è nostro no non è nostro o ci hanno occupato una regione gli infami vediamo se ci attaccano loro se saremo costretti ad attaccarli noi o bene è sparito una agitazione liberale ci hanno attaccato molto bene portiamo i rinforzi subito e vediamo di schiacciare questi dannati ribelli però prima voglio finire con le nostre con le nostre infrastrutture ecco mi sfuggiva al termine ragazzi sin thomas non la possiamo fare mentre qua o nello scandinavia anghana si molto bene ok quindi andiamo a fare la riportiamo la visuale qui togliamo questi due e vediamo come va la battaglia la seguiamo in diretta direi che stanno perdendo un casino di uomini ribelli anche perché solitamente è solo fanteria cos'è che è 10% più liberali oppure la popolazione cambia un 1% e 4% di militanza e diventate più liberali se proprio ci tenete voglio dire non è che posso massacrare la popolazione come se non ci fosse un domani poi voi vi lanciate all'attacco mentre voi che tra l'altro non avete più nemmeno un leader allora vi do un leader vediamo un po vi lascio come leader questo non è male solo che diminuisce la velocità ma non importa riportiamo le truppe qua a udense vediamo tra l'altro se è supportata qua ok è supportata molto bene adesso dovremo poi guardare per i porti per vedere dove possiamo farli ma è una cosa a cui penseremo fare un attimo adesso al momento come potete vedere stiamo spendendo un po di soldi anche perché naturalmente stiamo rimpolpando le fila del nostro esercito e come potete vedere abbiamo già perso due possibili brigate durante questo breve conflitto ed è una pessima cosa ragazzi una cosa davvero pessima tra l'altro mi chiedo se dopo aver riportato queste truppe a 30 quanto ci vorrebbe per cioè che cambiamento ci sarebbe se andiamo a togliere naturalmente i fondi all'esercito un po di fondi all'esercito comunque lo vedremo a breve la spagna resterà in quella posizione ancora molto o potrebbe perdere da un momento all'altro la sua posizione potrebbe perderla da un momento all'altro ottimo noi siamo attaccati al sedere degli austriaci invece questa è un'ottima cosa devo dire no madonna abbiamo perso punti nell'impero ottomano che palle che barba davvero come abbiamo fatto a perderli saranno stati francesi francesi che tra l'altro prendono un casino di influenza porca miseria fra un po ci butteranno fuori anche dall'oldenburg se continuo così aumentiamo ulteriormente le relazioni con gli ottomani così da avere un bonus ancora maggiore promettiamo la stampa libera che ci aumenta il prestigio ok questo però ci aumenta naturalmente la gente che la vuole ed è una cosa che ha un controsenso diciamo tra l'altro posso togliere il focus dei capitalisti qua e lo posso mettere in norland ottima cosa progetti una vinery in nord 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 che avevo già visto che non avrebbe senso come cosa oddio però il nord 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 è questo no era questo ok quindi non aveva senso per quella ragione allora vediamo le fabbriche dove potremmo costruire allora mettiamole in ordine e ok allora mostra anche quelle vuote allora nello sven lo stiamo facendo forse nel giland giland che sarebbe questa regione qui se non sbaglio ok e in questa regione abbiamo questo produciamo 6.000 ecco qua potremmo fare una fabbrica per l'alcol vediamo un po' cioè di liquore intendo che non sarebbe neanche tanto male fare mentre per quanto riguarda il cibo in scatola è anche questa non sarebbe male però non penso che riusciremo a supportarla vediamo un attimo a parte il fatto che al momento non abbiamo i soldi per fare nessuna del due allora vetro dovremmo riuscire a importarlo 3,91 allora grano ne abbiamo più che a sufficienza vetro vetro sfortunatamente no quindi ci servirebbe una bella fabbrica di vetro fabbrica di vetro che possiamo fare nelle regioni dove c'è il carbone e il carbone c'è solamente nello schweiland quindi la prossima che andiamo a fare ragazzi è una vetreria che andremo a fare qua nello schweiland anzi la possiamo fare fin da subito volendo perderemo un po' di soldi però vabbè mettiamola subito andremo un attimo in debito abbiamo guadagnato un po' probabilmente perché abbiamo aumentato l'industria del nostro cemento e quindi è salito un po' il tutto momentaneamente ok andiamo a ripagare il debito molto bene vediamo aspettiamo un secondo che si ripigli la nostra economia appena abbiamo acquistato tutto ok l'abbiamo fatto oh che palle continuano a diventare più liberali abbassiamo le tasse al ceto medio poi oltre questo vediamo un po' allora com'è l'economia 47, 50, 58 vediamo se oh bene abbiamo fatto il carbone pulito ragazzi non so parlare ogni tanto è una brutta cosa quel momento in cui ti incastri no non lo portare allo 0% riportiamolo al 25 oh bene bene direi che guadagniamo nettamente di più speriamo che continui ad essere così e allora tasse, efficienza amministrativa allora l'input teoricamente è quello che serve sì dai andiamo a fare questa qua dell'input oddio anche questa qua non sarebbe male no andiamo a fare questa che ci aumenta anche l'influenza ok ok andiamo a fare business regulation ragazzi lo so che sto andando un po' strano con le tecnologie però penso di stare facendo le cose migliori che potrei fare per la nostra economia poi magari sbaglio però ci siete voi che mi potete avvertire e mi potete consigliare quindi confido anche in voi come vi ho già detto però naturalmente quando commentate datemi anche consigli a lungo termine perché mi baserò molto su quelli bene ci hanno bannato dall'impero ottomano e allora mettiamo tutta la nostra influenza nel Londenburg infami che non siete altro siamo stati screditati qua e fra un po' ci buttano pure fuori yes non possiamo screditare la Prussia giustamente Prussia che prende molta più influenza di noi oh ma porca miseria ma porca miseria per davvero a sto punto allora fatemi tornare un attimo sull'Olanda dov'è l'Olanda? ok 18,7 vediamo se riusciamo a prenderne di più che gli spagnoli ok anche perché teoricamente gli spagnoli non confinano quindi dovremmo anche farcela ok ne stiamo prendendo un bel post stiamo per superarli eh no niente ragazzi è una causa persa la nostra possiamo dire da tutti i fronti dal punto di vista diplomatico per ora però ragazzi che ci possiamo fare? cioè i miracoli non li possiamo ancora fare quindi a parte aumentare le relazioni eccetera eccetera noi non possiamo dobbiamo dov'è l'Holstein? allora Holstein 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 eccolo qua vai alla diplomazia ok eh caspita ragazzi ne guadagnano molto a più di noi è questo che ci frega se no ce la potremmo anche fare in ogni caso la fabbrica di vetro è a buon punto quindi posso provare a cominciare a costruire nello Gilland quella di liquore ok e adesso ragazzi più che all'industria guarderò un momento ai porti per come vi ho detto aumentare anche il nostro naval limit naturalmente ma anche la nostra capacità coloniale cosa che ci servirà molto allora ne espandiamo una qua che non ce l'avevamo ancora ne possiamo fare una qui ok e adesso non abbiamo più soldi quindi niente abbiamo il massimo in questa zona si ok ne possiamo fare una qua in Africa forse no c'è già ne possiamo fare una qua poi per quanto riguarda la Groenlandia ce l'abbiamo già non ce l'abbiamo cos'è forse non la possiamo fare ah ma perché non ne abbiamo ancora i soldi semplicemente per quello ok quindi appena abbiamo i soldi possiamo farla anche là poi guardiamo ancora una volta qui 48 53 39 54 non ce la faremo mai ragazzi è una battaglia persa che due balle che due balle per davvero aumentiamo le relazioni con l'Olanda qua l'impero ottomano ci sono francesi e russi che continuano a a darsi le testate potremmo dire tra l'altro noi siamo bannati fino al luglio 1848 ok oh finalmente la possiamo costruire anche qua no la voglio in 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 vediamo la popolazione 266 no ok la facciamo in Islanda ok e con le naval base allora ci siamo oh finalmente abbiamo fatto la fabbrica di sedi che già senza lavoratori sta andando da dio ma ragazzi sono fabbriche che nel nostro territorio vanno un sacco infatti la prossima che andremo a fare che magari la faremo nello Slandet o nel Nord Norge è la fabbrica di carta che anche quella va un sacco in in Scandinavia e ve lo dico per esperienza personale perché in una partita un mio amico l'aveva fatta aveva fatto la Scandinavia mentre o meglio la Svezia mentre io facevo la il Giappone e carta legno andavano un sacco 5% dei popoli diventano più liberali in Islanda e Groenlandia oppure militanze più di 5% no questa 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 aumentiamo ulteriormente la velocità ah tra l'altro adesso teoricamente possiamo fare più che teoricamente effettivamente posso fare gli ingegneri ottimo allora li andiamo ad aggiungere agli eserciti vediamo il focus del reclutamento è qua lo andiamo a mettere qua allora e andiamo a reclutare 4 unità di questi ok naturalmente adesso andiamo a spendere un pochino ma poi torneremo in pareggio ecco infatti i francesi hanno abbassato l'opinione che gli ottomani avevano dei russi fabbrica di sedi di mobili a me vengono in mente le sedie perché l'immagine è di una sedia però in realtà è una fabbrica di mobili è stata costruita e lo Gile stiamo facendo quella un'altra ribellione giacobina alla madonna giustamente nell'isola cazzuta perché quando mai vabbè magari perdiamo un po' di uomini ma direi che ce la possiamo fare oh che brutta cosa sono nati gli anarcho-liberali che non sono neanche così terribili cioè ci sono gruppi peggiori però non non sono neanche i migliori vicini di casa potremmo dire diplomazia ci hanno bannato dall'Holstein bene in Olanda ci hanno screditato gli spagnoli e questa è una pessima cosa aumentiamo al massimo le relazioni con l'Olanda vediamo quanto prendiamo pluralità e vanno decisamente più veloci loro ma anche perché noi ne abbiamo un po' bloccati qua e un po' qua bene però abbiamo fatto business regulation che ci dà ancora più diplomatic influence e questa è un'ottima cosa adesso per quanto riguarda l'esercito direi che possiamo fare professionalismo dell'esercito che ci aumenta il morale e le tattiche militari ok quindi andiamo a fare questo vediamo se possiamo già riaumentare le relazioni con l'Olanda e siamo al massimo vediamo adesso quanto ne prendiamo ne prendiamo un po' di più ma non abbastanza da riuscire a sbattere gli spagnoli fuori dall'Olanda vabbè non si può avere tutto ragazzi tra l'altro vediamo qua di sbarcare prima che gli stronzetti ci occupino come potete vedere è nato l'anti-revoluzionaria anzi in realtà anti-revoluzionera partiet ovvero il partito anarchico e adesso andremo a vedere quali sono le sue idee politiche allora se andiamo a vedere il partito è questo qua no 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 eccolo qua hanno free trade l'SFR pluralismo cittadinanza limitata e gingoismo a parte il free trade non è male in realtà noi al momento abbiamo questo qua del capitalismo di stato ma poi oltre ai conservatori non vanno neanche così male altri partiti liberali che sono comunque pro-militari per esempio questo qua è protezionista intervenzionista pluralista per la residenza e gingoista ed è davvero un'ottima cosa forse questo qua però è un po' meglio più che altro perché ha la cittadinanza limitata il che ci permette un po' di integrare gente l'unico svantaggio è che non sono gingoisti ma sono solo pro-militari comunque è una cosa che vedremo in seguito e che adesso non ci va a toccare chissà quanto in ogni caso abbiamo portato i capitalisti in alcune regioni a buone percentuali no non in questa ok quindi le andiamo a togliere andiamo a metterli nello shield dove stiamo buttando tutti i nostri soldi ragazzuoli dove li stiamo buttando li staremo buttando nell'arruolamento dell'esercito probabile non mi sorprende più niente ormai abbassiamo leggermente le tariffe se possibile ok ottimo autore liberale oddio che barba si era buggato tutto per un secondo meno male che non si è buggato tutto perché se no erano cavoli amari 1-2 oh bene stiamo di nuovo lavorando nell'impero ottomano peccato che hanno tutti più punti di noi quindi lasciamoli scannare a vicenda mentre noi togliamo un attimo i punti e ci dedichiamo completamente qua dove come potete vedere riusciamo a prendere molti più punti rispetto alla Spagna militanza nei territori non coloniali oh yes era proprio quello che ci serviva ah tra l'altro abbiamo battuto i giacobini quindi questi ragazzoli quali possiamo anche riportare a casa li andiamo a mettere qui qui ok questi voi andate a sud la flotta la portiamo qua e l'ultimo a sto punto lo facciamo andare direttamente da questi qui ok perfetto i focus non li ho messi tutti ce ne manca uno e allora direi che potremmo fare allora innanzitutto ampliamo questa fabbrica e questa e come focus possiamo mettere allora Nord Norge Ostlandet vediamo un secondo le regioni allora popolazione Nord Norge e Ostlandet 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 ok è norvegese l'Ostlandet dovrebbe essere questo no questo è il Westlandet questo è l'Ostlandet ok vediamo un po' le risorse che hanno qua anche qua c'è molto grano e quindi direi che non sarebbe una brutta idea fare anche in Ostlandet una fabbrica di liquore quando ne avremo i soldi dobbiamo raggiungere però i 9190 anche lì e ci vorrà un pochetto ripaghiamo questo mini prestito ok non preoccupatevi per questa cifra qua sotto per il project daily balance perché ve l'ho detto prima e ve lo ripeto non è accurato e quindi non dovete farci troppo caso questi qua per l'amore di Dio andate qui poi al momento stiamo guadagnando un po' poco e si sta abbassando però anche il numero di brigate a nostra disposizione quindi aumentiamo le spese per la difesa vediamo le migrazioni un casino di gente sta emigrando dalla Scandinavia wow ma una quantità davvero allucinante di persone allora Ostlandet vorrei un po' di capitalisti perché ciò? sinceramente non capisco il perché stia emigrando così tanta gente allora reazionari Giacobini Giacobini potrebbero ribellarsi un'altra volta ottimo campagna per il suffraggio stampa libera quella del suffraggio uh è supportata da un bel po' di gente starete quasi tentato di farli vincere però non ancora meglio più che di farli vincere di dargli naturalmente il il voto penso che fra poco glielo darò perché se no ragazzi ci romperanno le balle fino all'alba dei secoli è una cosa che noi non vogliamo poi abbassiamo ulteriormente le tariffe ottimo abbiamo guadagnato un altro bonus vediamo qua Olanda oh benissimo la Spagna non è più grande potenza quindi possiamo finalmente mettere le nostre zampacce sull'Olanda molto bene nell'impero ottomano invece si stanno scannando bene anche tanto a dire il vero beh sta andando discretamente ragazzi sta andando discretamente allora questi uomini sono uniti non ancora ok adesso si cosa è successo quando vedo delle scritte improvvisi mi spavento sempre ah no stanno iniziando le elezioni semplicemente un'altra volta sono curioso di vedere chi le vince cioè confido molto nei conservatori sempre nell'alleanza dei nostri conservatori ma non sono sicuro che riescano effettivamente a vincere tra l'altro questa emigrazione così potente non non me lo spiego non me lo spiego per davvero cioè di solito si emigra quando manca lavoro adesso controlliamo un attimo se c'è una così elevata disoccupazione sì c'era un bel po' di gente disoccupata forse dovevo mettere un po' di focus sui sugli operai mettiamo i focus sugli operai allora allora lo mettiamo qua vabbè no non importa ormai è troppo tardi quella gente che voleva emigrare è emigrata quindi lasciamo così come sono le cose piuttosto cominciamo a fare in Ostlandet no sì ok ho capito quanta roba nello stesso momento dicevo cominciamo a fare in Ostlandet la fabbrica di liquori poi come nuova ricerca andiamo a fare andiamo a fare andiamo a fare le railroad di livello 2 ovvero le ferrovie di livello 2 così riusciamo a farle attraverso più territori i nostri capitalisti stavolta ci daranno una mano maggiore perché sono aumentati stiamo di nuovo cercando di influenzare l'Holstein molto bene però lo tolgo un secondo perché voglio dedicarmi prima completamente all'Olanda e ragazzi vedo che il nostro tempo è passato e dato che è passato all'alba di questa elezione guardate vi dico solo che faccio diventare solo il 5% in più in favore del free trade metto in pausa e ragazzi vi saluto spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando lasciate qua sotto un bel mi piace iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti consigliate il canale d'amici condividendo questo video e commentate qua sotto naturalmente mi raccomando perché i vostri commenti sono sempre ben accetti li leggo volentieri e mi date sempre dei consigli utili quindi ragazzi o meglio legionari avea tutti e ci vediamo nel prossimo episodio di questa campagna con la scandinavia avea tutti ancora legionari ferro dal ghiaccio grazie a tutti